Lunedì 14 settembre, presso la sala stampa del comando Compagnia Carabinieri di Sala Consilina, il capitano Davide Acquaviva, prossimo ad assumere altro incarico, ha salutato gli organi di stampa e contestualmente ha presentato il proprio sostituto nell'incarico, capitano Paolo Cristinziano, attuale comandante del nucleo operativo e radiomobile di Frascati a Roma. Il lavoro che noi svolgiamo è un lavoro di squadra, il comandante può essere parificato nel mondo civile anche ad un allenatore della squadra di calcio, un buon comandante, un buon allenatore, un buon comandante di una nave è colui che assiste a quello che accade, vede se qualche suo uomo sta facendo un qualcosa che magari può essere corretto e dà le correzioni per raggiungere un obiettivo. Il comandante della squadra di calcio è quello di vincere la partita per vincere il campionato, il comandante della nave è quello di raggiungere una meta attraverso la navigazione e cercare di fronteggiare le tempeste, la bonaccia e il clima avverso o comunque raggiungere un punto. Il comandante dell'arma dei carabinieri a qualsiasi livello, dal comandante della stazione che è la unità più piccola che noi abbiamo come organizzazione territoriale, il comandante della compagnia e il comandante provinciale, il suo, io credo, fine ultimo non è scritto da nessuna parte ma a mio parere il fine ultimo è quello di dare una risposta a chi la chiede, al cittadino. Il cittadino indistinto e soprattutto cercare di aiutare le persone più fragili, cercare di risolvere le problematiche garantendo l'ordine e la sicurezza pubblica in un determinato posto. La nostra capillarità è cercare di offrire un servizio proprio per tutti per garantire anche una pace sociale. L'arma dei carabinieri mi sento di dire che svolge una funzione sociale, che è una funzione di rassicurazione, che è una funzione che aiuta appunto a mantenere nel territorio un benessere. Per essere presenti è necessario che comunque da parte nostra ci sia sicuramente un sacrificio nel poter ogni giorno aumentare sicuramente i controlli della nostra presenza sul territorio. Presenza significa poi parlare con le persone. Come dicevo prima, il cittadino è il nostro punto di riferimento, ma se noi non siamo presenti a 360 gradi di giorno e di notte sul territorio diventa impossibile, se non ostico, comunque cercare di avere quelli che sono anche i ritorni da parte della popolazione. La popolazione è importante perché ha necessità di percepire la sicurezza. Questo lo si fa con la presenza, lo si fa con la disponibilità e lo si fa non sottovalutando nessun tipo di criticità. Per noi, ripeto, il cittadino resta il nostro principale datore di lavoro. Quindi l'arma dei carabinieri da oltre 200 anni assicura questo e bisogna continuare nella strada che ci è stata indicata già dai nostri predecessori. Ringrazio il collega Acquaviva perché assumo un compito gravoso. Sono fiducioso ma allo stesso tempo sono cosciente che il mio predecessore ha fatto molto bene in questi anni. Ringrazio innanzitutto poi tutte le persone che abbiamo avuto modo di incontrare in questi giorni perché ho avuto una buona impressione. Ho visto gente avvicinarsi, informarsi e soprattutto sorridere. E questo penso che sia una cosa fondamentale e che poi aumenta in noi la voglia di fare meglio e sempre di più.